Il Comune di Napoli ormai da qualche anno sta cercando di essere propulsore in questo senso, rappresentando le difficoltà e le criticità di una realizzazione concreta poi nei territori. In particolare noi viviamo una situazione anche molto complessa, se non problematica, che ci vede coinvolti nei territori più interessati dalla presenza di comunità Roma. Ci vede coinvolti soprattutto nell'inclusione anche sociale e scolastica dei bambini e passando attraverso le pratiche che riguardano appunto i bambini si sta realizzando una programmazione che invece guarda alle persone che vivono ormai anche nel nostro territorio da tantissimi anni e che necessitano di attività e di azioni realmente inclusive. Il tavolo interministeriale che definisce la strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Camminanti prevede interventi sull'accesso al lavoro, alla scuola, alla sanità e dalle problematiche abitative, queste ultime in un'ottica partecipativa e di superamento delle logiche emergenziali e dei grandi insediamenti monoetnici, nel rispetto delle opportunità locali, dell'unità familiare e di un sistema fondato sull'equa dislocazione. Su questo tema a Palazzo San Giacomo oggi si sono incontrati l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le città metropolitane per assicurare uno scambio permanente fra amministrazioni centrali, regionali e locali. Faremo il punto su quello che è la disponibilità dei fondi, infatti abbiamo voluto coinvolgere tutte le città che sono destinatari e beneficiari di quello che si chiama il POMmetro, cioè i fondi che possono essere utilizzati anche per l'inclusione di queste realtà. Sicuramente la città di Napoli è un osservatorio, un laboratorio molto interessante perché ha le sue possibilità, i suoi strumenti, le sue caratteristiche per poter dare una risposta positiva e virtuosa a quella che più che una difficoltà deve diventare una sfida e un'opportunità di crescita e di coesione. Napoli ha dimostrato di essere una città accogliente, solidale, che fa la sua parte fino in fondo con i ROM, con gli immigrati, che vuole una città in cui i diritti e i doveri siano per tutte le persone. Credo che rappresentiamo un modello, ci viene riconosciuto a Lunar, per esempio, che ha utilizzato parole di grande apprezzamento per la città di Napoli, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni, e così andremo in quella direzione sempre di più con una città in rifugio, ovviamente chiedendo alle istituzioni centrali di accompagnare anche dal punto di vista economico questo percorso che ha bisogno anche di risorse, ma prima ancora dei soldi vengono i diritti.